La tradizionale cerimonia di premiazione nella Sala della Repubblica del Teatro Rossini ha calato il sipario sulla 77esima edizione del GAD, Festival Nazionale d'Arte Drammatica che nell'anno di Capitale della Cultura condedica il compianto Glauco Mauri, conferma il suo alto standard di qualità delle compagnie teatrali in concorso. A vincere il festival è stata la rappresentazione di Uomini e Topi di Steinbeck della Compagnia Giardini dell'Arte di Firenze, seguita dal Teatro Comico della Compagnia La Graticcia di Verona e da Riccardo Terzo della Compagnia Artemisia di Bari. Uomini e Topi riceve il premio più alto dalla giuria del concorso ma viene votato miglior spettacolo anche dalla giuria studenti e da quella del pubblico. È uno dei premi più ambiti a livello nazionale, forse è il più ambito, noi non l'avevamo mai vinto, questo è un onore immenso, specialmente adesso anche che è l'anno della Pesaro, la Capitale della Cultura, quindi dà un valore aggiunto ancora maggiore. Quindi se essere riusciti ad raccontare una tematica e avere colto il cuore del pubblico penso sia il premio anche questo qui più forte e maggiore. 13 i riconoscimenti assegnati, far cui anche il premio Claudio Sora offerto da Rossini TV per il miglior trailer vinto dallo spettacolo stasera Ovulo del gruppo attività teatrali Peppino Mancini di Fasano. Mi illusinga tantissimo vedere quante persone sono state presenti a questa cerimonia, non solo le persone coinvolte, le compagnie che ricordiamo tutte ritornano a Pesaro per la premiazione, ma c'erano tanti rappresentanti istituzionali e anche tante persone del pubblico che ci ha seguito abbonandosi, ha seguito tutto il festival. Quindi è stata veramente una festa in cui tutta la famiglia del Gad, in tutte le sue componenti, quindi da chi recita, chi organizza, chi partecipa come pubblico, si sono ritrovati assieme per celebrare questo momento di grandissima emozione in cui si sono rimesse in fila i valori importanti, che sono quelli della passione comune, della condivisione e direi anche della cultura. L'asticello ovviamente si è alzata, si è alzata per tanti motivi, non soltanto per Pesaro, capitale della cultura, ma anche perché c'è veramente negli interpreti e nelle compagnie la voglia e il desiderio di partecipare al festival di Pesaro e sanno tutti che partecipare al festival di Pesaro è un onore e quindi è sempre più importante aumentare la qualità perché ci sono tante compagnie preparate che si presentano tutti gli anni e hanno bisogno di una vetrina importante come questa di Pesaro per rilanciarsi o per confermare le proprie posizioni sul territorio nell'ambito di quello che è il teatro amatoriale italiano.